secondo te questa cosa è successa per davvero non li credi neanche tu vero ma ti prego non lasciarmi da solo fammi sentire la tua presenza ghiokan si sono venuto qui a cercare ghiokan shainoglu scriveranno in lettere loro ghiokan il grande eroe buona cena allora ma dove vai devi venire anche tu ho da fare domattina ghiokan amico uniscite a noi